Rettore Pinton, oggi un po' è il primo giorno di scuola, quali sono i sentimenti prevalenti di questa ripresa della didattica in presenza? Beh, diciamo che prima di tutto una fortissima emozione. Io questa mattina ho fatto un po' di giro nelle classi dove stavano facendo lezioni, avevano il loro primo giorno le matricole ed è stata veramente emozionante vedere innanzitutto le aule riempite per quanto possibile, secondo le disposizioni naturalmente sul distanziamento interpersonale, tutti con la loro mascherina, però è stato un momento molto felice anche perché corona un periodo in cui abbiamo lavorato molto per costruire dal punto di vista organizzativo e anche del sentimento, del sentire questa ripresa in una nuova normalità in cui siamo naturalmente costretti a operare. Come funzionerà adesso la didattica dal punto di vista pratico? Dal punto di vista pratico la didattica funzionerà con attività in presenza, ogni corso di studi ha organizzato le sue attività in presenza, ma anche la possibilità di usufruire delle lezioni a distanza, quindi non tutti gli studenti saranno presenti sempre alle lezioni, una parte del corso, in alcuni casi tutto l'insegnamento verrà fornito in presenza, però ci sarà sempre la possibilità, grazie alle dotazioni tecniche che abbiamo installato in tutte le nostre aule, delle nostre sedi, di seguire a distanza le lezioni. Questo significa dare l'opportunità anche agli studenti che non possono muoversi con facilità di avere e poter usufruire dell'offerta formativa. È chiaro che per noi è molto importante l'attività in presenza, soprattutto dove poi si tratta di attività laboratoriali. L'Ateneo ha fatto delle linee guida specifiche, quali sono i principi fondamentali da seguire per i studenti e per i docenti? Ma diciamo, innanzitutto ha distinto linee guida per studenti e docenti e sono ambe due pubblicate nel nostro sito e sono stati ampiamente diffusi a tutti gli interessati e anche ai futuri, si spera interessati, ricordo che siamo ancora in periodo di immatricolazione. Per gli studenti naturalmente è fatta molta attenzione, viene molto rimarcata la necessità del rispetto delle regole di sicurezza e quindi anche come entrare nelle sedi e come muoversi nelle sedi, come usufruire delle sedi. Una vera e propria istruzione per l'uso. Basti ricordare per esempio alla possibilità di prenotare, adesso nel sito entro pochi giorni con l'app, la possibilità di seguire la lezione ma poi anche di confermare la presenza nella lezione. Questo naturalmente ci darà la possibilità di tracciare anche gli studenti praticamente nella loro aula e quindi nell'eventualità malaugurata ci possa essere un disagio, un contagio, la possibilità di poterci scoscrivere l'ambito di attenzione. Per i docenti naturalmente le regole sono le stesse nel momento in cui convivono nell'aula. È chiaro che il docente ha una, oltre alla responsabilità diciamo personale che ha ogni, ciascuno studente, ha anche un po' il compito di verificare che il tutto si svolga nel migliore dei modi. Naturalmente non dovrà fare il poliziotto o un controllo esasperato, però dovrà richiamare le regole naturalmente da rispettare, oltre a fornire la sua attività didattica e potrà anche intervenire nel momento in cui si registri una situazione particolare, uno studente che ha malessere, avvertendo immediatamente la portineria che poi provvederà a trasferire gli studenti in una sala apposita dove potranno intervenire sia il medico competente che il nostro referente per la sicurezza. Da lì poi partire eventualmente l'iter di controllo con il contatto con il servizio di prevenzione della struttura sanitaria. Dunque l'Ateneo è prontissimo sia per la didattica in presenza sia a distanza. Che messaggio ha voluto dare oggi alle matricole? Beh, con loro ho voluto condividere questa emozione. Forse per loro sembrava strano, però non dimenticate che le matricole vengono da un anno di scuola superiore, l'ultimo anno del loro liceo o della scuola superiore, vissuto in maniera un po' particolare. E il messaggio che ho voluto dare è che pur con questa nuova normalità, chiamiamola, non va considerata però come una situazione di emergenza e che l'obiettivo sia quello di entrare in presenza o virtualmente, meglio se in presenza, a diretto contatto immediatamente a far parte di questa che è la nostra comunità, che è fatta di docenti, che è fatta di personale tecnico, amministrativo e che è fatta di studenti. Naturalmente tutti insieme poi a creare i presupposti perché questo sia un percorso non solo di conoscenza, di acquisizione di conoscenza, ma sia un percorso che li prepara alla vita futura. Ultima cosa, le iscrizioni chiuderanno il 5 ottobre. Cosa vuol dire invece a chi è ancora indeciso e non sa bene in questo anno particolare se iscriversi o no? Ma innanzitutto iscriversi all'università significa puntare sul futuro e investendo sulla formazione superiore. Io credo che questo sia e rimanga sempre o comunque un obiettivo importante, che tutto il paese si deve porre tanto più le nuove generazioni. Per quanto riguarda la possibilità di iscriversi all'università di Udine, io ricordo che naturalmente noi abbiamo un'offerta formativa che cerca di rispondere proprio a questa esigenza di futuro, che c'è la possibilità anche di seguire in sicurezza, e questo è fondamentale, le lezioni in presenza o a distanza e che naturalmente, cosa di cui credo alla nostra università possa andare orgogliosa, abbiamo tutta una serie di servizi per gli studenti, che sono evidentemente un po' un fiore all'occhiello, ma che aiutano proprio ad entrare a far parte di una comunità. Quindi la sollecitazione, l'invito è ad iscriversi senza paura, ma soprattutto con grande voglia di costruire assieme il proprio futuro.